Sì, la sinistra c'è, c'è sempre stata, ci deve essere e ci sarà, bisogna che il PD si faccia carico di garantire che questa sinistra abbia voce e ce l'ha la voce se dice delle cose chiare sul terreno del contrasto alla diseguaglianza, della lotta alla povertà, di un reddito minimo per chi oggi davvero non affronta più il peso della crisi, di un rilancio dell'occupazione oltre i dati dell'anno passato e quindi anche con delle scelte impegnative che vuol dire investimenti pubblici per un paese dove la recessione ha fatto molto molto male. E poi bisogna sul piano della politica cercare di ricostruire il perimetro di un centro-sinistra che si candidi al governo delle principali città e domani del paese. Non è semplice, io vedo gli ostacoli, vedo le difficoltà. Il centro-sinistra è slabbrato in molte situazioni, da Torino a Roma, a Napoli, però sono convinto che la vocazione, la missione del PD sia quella di candidarsi a ricostruire il campo largo e aperto di un centro-sinistra di governo. E infine la sinistra deve farsi sentire quando in discussione entrano le regole della rappresentanza e della democrazia. Superare il bicameralismo è un fatto positivo, ma trasformare il referendum dell'autunno sulla riforma di un terzo della Costituzione, poco meno, in un referendum sulla persona del Presidente del Consiglio, lo considero un errore da evitare, per la ragione semplice che la Costituzione deve essere di tutti o comunque della più larga maggioranza. E quindi noi dobbiamo fare in modo di unire il paese attorno ad una buona riforma. Abbiamo avanzato delle proposte, cose da fare da qui a quella scadenza, speriamo che il PD se ne faccia carico, noi ci batteremo per questo.